signori benvenuti alla convocati reaction buona mattinata perché questo video pubblico le 7 teoricamente sarebbe dovuto uscire 345 con un altro video e 7 ma alle 345 ragazzi parliamo ovviamente di volovic ma che cosa andiamo a fare in questo video andiamo ragazzi a fare la convocati reaction perché la convocati reaction perché ci sono stati convocati per lo stage che ha preso cittimancini in questa sosta per le nazionali video vi dirò ogni giocatore reparto per reparto e vi dirò il mio semplicissimo parere c'è qualche assente dei big tipo giorgigno tipo donna roma e verrati che se non sbaglio su rotti c'è qualche assente ma alla fine ragazzi sono anche contento che siano assenti così lasciamo sempre più spazio ai giovani import ragazzi c'è salvatore sicurico del genuo alex meret del napoli alessio cranio del cagliari e udite udite marco carne secchi della cremonese sono contentissimo che abbia convocato carne secchi perché secondo me ragazzi il futuro della nazionale e insieme a donna roma con carne secchi carne secchi avrà probabilmente più possibilità a fine carriera perché magari donna roma non sarà più quello di una volta sono contentissimo che abbia deciso ragazzi essendo un giocatore di b in prestito all'atalanta però essendo un giocatore anche della serie b di portarselo passiamo ai difensori in cui ragazzi c'è tutto il mix alessandro bastoni all'inter cristiano biranghi a fiorentina davide calabria il milan giorgio che linea juve del mattia de sciglio della juve giovanni di lorenzo del napoli alessandro folerenzi del milan luiz felipe della lazio gianluca macini della roma luca pellegrini della juventus giorgio scalvini dell'atalanta e raffael toloi sempre dell'atalanta allora sono contento ragazzi che abbia convocato biraghi è un mio pallino batte le punizioni come veramente pochi e poi mi ricordo che sta anche molto simpatico al buon cittimancini quindi sono contento ha riportato il sciglio anche se secondo me ragazzi ci può stare però magari avrei preferito se proprio sceglie portarmi un darmi anche sta veramente facendo benissimo mentre invece un po non capisco la convocazione di scalvini io onestamente avrei convocato i bagnez visto che lui si è reso disponibile per la nazionale italiana e comunque l'avrei portato fatto stai ragazzi sono contento che abbia accettato luiz felipe di essere di essere un nuovo riundo di essere italiano di giocare per la nazionale ne sono contento passiamo ai centrocampisti dove qua troviamo nicolo barella dell'inter brian cristante della roma nicolo fagioli nella cremonese davide frattesi del sassuolo manue locatelli della juventus mattia matteo pescina dell'atlanta samuele ricci dell'empoli stefano sensi dell'inter e sandrino tonali del milan sono contento ragazzi che abbia anche qua deciso di portare qualche sorpresa perché c'è una sorpresa quali nicolo barella e samuele ricci ricci sta facendo bene scusate nicolo barella nicolo fagioli hanno stesso nome li confondo samuel ricci che sta facendo molto bene e penso che l'anno prossimo sia pronto almeno per il salto a fiorentina non almeno perché secondo me dovrebbe fare un altro anno da tra virgolette cadetteria in squadre piccole ma conoscendo il calcio andrà sicuramente in una squadra grande tipo a fiorentina sono contento ha portato fagioli perché sta veramente facendo bene e due domini ragazzi seribili unici due nomi seribili su tutti della cremonese ve lo spoilerò attaccanti una piccola domanda sapete ragazzi che luca io mi aspettavo avrebbe portato invece no luca sta facendo adesso un periodo di strada ha fatto tipo 10 partite e 7 gol siamo alla ventitresima barra ventiduesima giornata essere b e ancora ea sette gole basta quindi è stato ragazzo un fuoco di paglia tutti o vogliamo luca luca andiamo a vedere gli attaccanti con mario balotelli della dana temi sport domenico berardi e sassuolo federico bernardeschi della juventus ciro immobile della lazio lorenzi signe del napoli gioco pedro del cagliari giacomo raspadori della sassuolo gian lucas camacca del sassuolo mattia zaccagni della lazio nicolo zaniolo della roma contento ragazzi di mattia zaccagni onestamente se convochi balotelli però non l'avrei convocato ragazzi balotelli è un po uno mai fatto a caso vabbè che una stage però dipende se poi questo stage per confermarne in 25 ti porti mario balotelli vedo male mai faccio spero ragazzi che gioco pedro faccia bene perché sono contentissima di aver portato gioco pedro staremo a vedere c'è una rosa titolare ragazzi con un 433 con in porta salvatore siribu perché secondo me è nettamente più forte di melette e di cragno secondo me non nettamente per cragno se la giocano 100 cragno e 95 segue 100 quindi soli a destra metto calabria è una formazione ragazzi un po caso a destra calabria centrali mettere in questo momento luiz felipe e mancini se ovesse essere una rosa da usare terzino sinistro forse uno tra luca pellegrini e mattia de sciglio anche centrocampisti a mettere i nicolò fagioli lo vorrei subito testare davide frattesi e uno tra sandrino tonale tonale e samuel ericci attaccanti ricordo con ad as as ci metterei forse per testare mattezza cagni e punta ci metto ci metto balotelli con gioco pedro a destra oppure a destra ci possiamo mettere anche anche federico bernardeschi comunque questa mia convocati reaction da un voto 7 ragazzi per questa reaction per questi convocati dei partiti mister mancini sono contento di vedere i nomi anche non blasonati come ad esempio fagioli comunque signori io vi saluto un grosso abbraccio e ci vediamo